E' all'economista Roger Abravanel che progetto Donne Futuro dedica la lettera A del suo alfabeto degli uomini che lavorano con le donne. Di origini italiane, Roger Abravanel arriva nel nostro paese nel 1963 e frequenta con una borsa di studio il Politecnico di Milano, dove in breve tempo si laurea a pieni voti vincendo il premio di più giovane ingegnere d'Italia e una medaglia del Presidente della Repubblica. Grazie a un'altra borsa di studio frequenta il Master in Business Administration presso la Business School INSEAD, dove riceve la High Distinction. Roger Abravanel ha lavorato per 35 anni per la società di consulenza McKinsey & Company, attualmente opera nel settore del private equity, siede in consigli di amministrazione di società quotate, banche e dell'Istituto Italiano di Tecnologia. E' presidente dell'INSEAD Council italiano e nel 2010 è stato selezionato tra i 50 alunni che hanno cambiato il mondo in occasione del cinquantenario della fondazione dell'Istituto. Editorialista del Corriere della Sera, nel 2008 Abravanel pubblica il best seller Meritocrazia, quattro proposte concrete per valorizzare il talento e rendere il nostro paese più ricco e più giusto. Nel libro Abravanel dipinge in maniera puntuale e asettica un concetto intangibile come il merito e il demerito, spiegando nei suoi straordinari effetti sull'economia, il paese e le persone, e sostiene che la principale causa della stagnazione economica degli ultimi 25 anni nel nostro paese sia la mancanza di meritocrazia, che in Italia è sostituita da un malinteso senso di uguaglianza e solidarietà. Noi siamo una società che si definisce solidale, però non lo è. Se noi prendiamo la disuguaglianza del nostro paese, al di là del fatto delle donne, che appunto siamo il paese dove le donne lavorano di meno e fanno meno figli e quindi chiaramente non siamo una società solidale nei confronti delle donne, ma in generale abbiamo una disuguaglianza spaventosa, tra i più poveri e i più ricchi e abbiamo una mobilità sociale bassissima, quindi non ci si muove su e giù. E questo pur dichiarando di essere una società solidale non lo siamo, purtroppo per le stesse ragioni. Si vanno avanti i privilegi, uno va avanti la voglia di impegnarsi e di competere e quindi di fare proprio meglio. Per riportare nel nostro paese le giuste condizioni, Roger abbrava nel formula alcune proposte concrete e praticabili, ispirandosi alle società più avanzate nello sviluppo della meritocrazia. La prima riguardava la scuola con l'introduzione di test e di valutazione internazionali, proposta raccolta dalla riforma Gelmini nel 2010. Il mondo del lavoro oggi è molto diverso dal mondo del lavoro di 40 anni fa, in cui bisognava insegnare a qualcuno un compito ben preciso, perito, l'idraulico, il professionista, eccetera. Oggi il mondo del lavoro e la società richiede meno compito specifico e molto più capacità di lavorare insieme, di risolvere problemi, di ragionare con la propria testa, di leggere, di interagire. Questo è una cosa che viene chiamato dagli esperti life skills, le competenze della vita. Questi test, che vengono chiamati quiz, non fanno altro che misurare questa capacità di inserirsi nel mondo del lavoro. Un'altra importante proposta riguardava quella che abbrava nel definisce la vera arma segreta della meritocrazia, le donne. Aumentare il numero delle donne che lavorano e dare loro possibilità concrete di raggiungere obiettivi alti, scriveva Bravanel, e interesse soprattutto del sistema economico imprenditoriale, come dimostrano moltissime ricerche. Perché, siccome proprio credo che sia stato forse il primo a parlare di questa cosa, io ho capito che tagliare fuori dalle possibilità di carriera metà della società non è iniquo solo, ma è anche veramente stupido. Anche perché le donne sono molto complementari e hanno delle capacità che gli uomini non hanno. Per migliorare le possibilità di carriera delle donne, Bravanel proponeva di cominciare dai vertici, agendo sui codici di autoregolamentazione delle società quotate, che avrebbero dovuto prevedere la presenza di almeno due donne nei consigli di amministrazione. Nel 2011 il governo italiano vara la legge sulle quote di genere, che amplificando nella portata inquadra in una precisa cornice normativa la proposta di Bravanel, che risponde così alle critiche di anti-meritocrazia del concetto di quota. Nel mondo anglosassone c'è questo concetto dell'affirmative action, le azioni positive, che sono quelle che forzano per un periodo breve un cambiamento che non avverrebbe se non viene. Perché sai, in consigli di amministrazione ci sono i comitati nomine, io sono il comitato, se sono tutti maschi non gli passa proprio per la testa di chiamare una donna. Cioè io ogni tanto lo dicevo, mi guardavo come se fossi matto. Allora la quota è una cosa che deve succedere per un periodo breve. E sulla valorizzazione del merito e del talento femminile si concentra anche l'attività di progetto Donne Futuro, che aiuta giovani ragazze meritevoli a inserirsi nel mondo del lavoro attraverso un percorso di tutoring di altissimo livello. Noi abbiamo un mondo della scuola che non prepara il mondo del lavoro. Il fatto di avere dei coach, dei mentori, che sono ovviamente delle persone eccellenti, che lo fanno e che preparano, non può che essere positivo. Avere dei role models, scrive Abravanel, è essenziale perché le donne italiane si convincano che è possibile per una donna essere leader senza agire come un maschio e continuando ad essere moglie e madre. Io sono sempre un po' preoccupato dalle donne che vogliono fare, per esempio, carriera facendo i maschi, diventando duri. No, le donne devono avere la leadership femminile. Quindi per me contributo femminile e leadership femminile. Le donne per avere successo debbono valorizzare la propria femminilità. E alle giovani donne che entrano oggi nel mondo del lavoro di un paese che lui stesso definisce il più ineguale e ingiusto del mondo occidentale, Roger Abravanel suggerisce di trovarsi delle soluzioni un po' lontane da casa, durante il periodo di studio, a cavallo fra lo studio del lavoro, che facciano un'accelerazione lontano dal proprio ambiente per dare fiducia, coraggio, perché se uno sta sempre nello stesso posto non cresce.